Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Massimo Giletti non va in onda. Programma sospeso. Terremoto in casa la 7. L'emittente. Ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'arena che, dunque, a partire da domenica prossima non andrà in onda. A rendere nota la propria decisione è stata la stessa emittente che ha ringraziato il conduttore per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Stando a quanto riportato dall'Ansa, Massimo Giletti resta a disposizione dell'azienda. Da tempo circolavano voci di una possibile separazione tra il conduttore e la rete di Urbano Cairo, ma nessuno si aspettava uno stop così repentino. Quale sarà il futuro di Massimo Giletti? Al momento non si conoscono ancora le motivazioni che sono alla base della chiusura di Non è l'arena, ma di certo, come riportato da fanpage.it, il programma non chiude per motivi legati all'audience, ma per motivazioni certamente più complesso. Da tempo i rapporti tra Cairo e Giletti sarebbero piuttosto tesi e da alcune settimane sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti che vorrebbero il ritorno del noto conduttore in Rai. Complice anche l'addio di Fabio Fazio e la conseguente chiusura del programma Che Tempo Che Fa.